Io non voglio certo raccontarvi libero, le mie esperienze sarebbero impossibili, non per parole ma per anzianità, io sono a disposizione su qualsiasi tipo di curiosità, sull'Iraq, sulle mie esperienze, a me in genere piace il confronto, piace parlare con la gente, non mi piacciono le relazioni, c'è appunto questa parte e poi dall'altra, per cui come diceva, ce ne sono pronti a tutto.